Un nuovo anno zero quello che attende la Becquery Basket che prova a ripartire dall'entusiasmo del presidente Marco Beccari che dopo la mesta retrocessione dello scorso campionato rilancia e dall'assalto alla 2. Lo fa con un gruppo allestito senza badare a spese e presentato oggi al Pala Becquery alla presenza del rinnovato staff dirigenziale. Abbiamo metabolizzato la retrocessione dell'anno scorso, sono passati un po' di mesi quindi abbiamo avuto modo di digerirla e siamo ripartiti per come vogliamo, cioè ripartire con un nuovo ciclo importante è una squadra che abbiamo investito, che pensiamo possa essere competitiva fino a giugno per il campionato di Serie B molto lungo con l'obiettivo di cercare di tornare in Serie A. Cosa vi ha insegnato la scorsa stagione? Noi pensiamo di aver fatto le cose fatte bene con giocatori di un livello incredibile per Piacenza e poi abbiamo capito invece che mancavano dei tasselli che siamo andati a completare quest'anno con l'organizzazione di staff di tutti i professionisti, questa è la cosa più importante per cui pensiamo di aver imparato tanto e adesso da qui appunto ripartire un nuovo ciclo che ci permetterà di arrivare a dei livelli che come ha detto qualche giocatore aspettano a Piacenza quindi è una Serie A. Si riparte dai confermati Giovanni Gasparin e Francesco Infante, i soli reduci della scorsa stagione mentre rispondono ai nomi di Luigi Dordei e Matteo Soragna i colpi da 90 del mercato bianco-rosso. Matteo perché è un giocatore del tuo calibro o sceglie Piacenza? Perché ho parlato con il presidente Beccari e ha avuto una passione e un'energia che non sono comuni ha un progetto forte che non si limita solo magari a voler andare in Serie A o voler fare bene proprio lui ci crede, crede nel movimento, crede nel coinvolgimento del territorio con i bambini, con tanti enti quindi quando una persona ti propone un progetto del genere non puoi non dire di no. Un volto nuovo e di gran prestigio come Stefano Bizzozi per la guida tecnica. Non voglio sottovalutare questo campionato e quindi non voglio nemmeno sentire parlare troppo di obiettivi o meno tutti noi siamo consapevoli di quello che vorremmo raggiungere, i nostri sogni e le nostre aspettative ci sono. Ripartire da una retrocessione che ha fatto malissimo ma che non sembra aver minato nell'animo una tifoseria che sogna il pronto ritorno in A2. Noi siamo abituati con il calcio, quando le cose vanno male si fischia e lo scorso anno è arrivata una retrocessione, sono stati applausi alla fine. Beh è stata comunque una squadra che si è fatta amare perché hanno sempre messo un impegno straordinario e quindi non era neanche giusto fischiarli. Ma è una cultura diversa, sì, sicuramente è un modo più tranquillo e più pacato e più normale di vivere lo sport. Ci sono grandi ambizioni e anche grandi speranze. Vi ha soddisfatto l'allestimento della Nuova Rosa? Sì, gli acquisti sono stati buoni e speriamo bene. Grazie.